Credo, quello che mi colpisce molto di quello che dice Caterina è che noi non abbiamo capito molto della Russia in questi anni perché abbiamo avuto un'illusione ottica sulla Russia pazzesca perché la guerra è stata quella manifestazione improvvisa di violenza devastante che stai raccontando e che stai mostrando ma anche questa paura di una donna europea, intelligente, che vive qui e che ha davvero paura del suo dittatore ha davvero paura di fare 15 anni di prigione per aver detto una parola allora immaginare che noi continuiamo a finanziare la guerra dei russi con molto più denaro di quanto ne usiamo per aiutare gli ucraini perché poi questa è la verità e che abbiamo costruito in questi anni l'illusione di una cosa che non esiste mi fa tremare rispetto al futuro dell'Europa perché noi abbiamo confuso il desiderio di un mondo in pace, democratico, aperto, globale, libero e ricco con una realtà che era completamente differente certo certo Grazie a tutti.